Questo è il suo fratello Walter. Ma è matto. Walter, c'è tuo fratello. Mi dispiace signora, ma dobbiamo interrompere questa interessante conversazione. Per me è un momento importante. Ho appena scoperto di avere un fratello. Fratellone mio! Naturalmente voglio anche te sul mio razzo per il volo inaugurale. Vi vedremo i profitti. Grazie, sei molto generoso, ma non mi serve niente. Fa sempre così quando si dice la parola te. Vabbè Walter, non fa nulla. E lo fa anche con nulla. Ah, e quali altre parole non si possono dire? No, sono solo queste due. Ma pensi che una volta era quasi 60? Capirai, non si poteva dire niente.